Lunedì 6 giugno A riete qualche nuvola appare all'orizzonte portando a galla vecchie diatribe familiari con più flessibilità e meno impeto darete risposte efficaci a parte un po' di carenza organizzativa che a conti fatti vi mette in affanno bene o male ve la caverete Toro, influssi positivi sia per il lavoro sia per le amicizie è necessario dare ascolto ai buoni consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere riflettete e scegliete l'ambito che vi sembra prioritario per un'azione decisa, favorita dalla Luna Gemelli, in amore è un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace Cancro, con la Luna nel segno guadagnate in sensibilità e intuito se siete alle prese con una questione spinosa fate leva sulla dolcezza tutto sarà più facile dovrete considerare alcune proposte che comporteranno dei cambiamenti alla luce degli sviluppi futuri Leone, venere e vi sorride con le già degli E vi indica il percorso per far capitolare qualcuno che sembra ma non è indifferente al vostro fascino una presenza più attiva e premurosa nella coppia evita gran parte dei contrasti e molti malumori Vergine, la giornata non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio ma vi fa anche il gradito dono di un bel sorriso ottime notizie per quanto riguarda affari, imprese e contratti nelle spese non eccedete attendete, attendete con fiducia Bilancia, piccole noi o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi tanto più che avete accanto una presenza affettuosa e sorridente è proprio ora di fare i conti con aspettative, programmi e intenzioni possibilmente con la massima sincerità Scorpione, illuminato da una felice intuizione un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa lasciando ben sperare per la sua realizzazione con la persona amata siete uno zuccherino coronate un bel momento con un romantico invito a cena Sagittario, avete gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare armati di santa pazienza di trasformarle a voi la scelta se favorire o ostacolare un cambiamento d'amore decisione impegnativa ma necessaria Capricorno, potrete intervenire con successo in una situazione di lavoro che sembra stagnante purché non tradiate la fiducia di chi vi ha sostenuto con un po' di tolleranza riuscirete a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco Aquario, la giornata offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia per una volta potete sorvolare sugli aspetti pratici nella coppia riuscirete a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire e focalizzare i problemi Pesci, se non avete qualcuno con cui passeggiare mano né la mano alzate gli occhi e guardate le stelle forse ci sarà quella cadente a cui affidare un desiderio sul lavoro una telefonata alle persone giuste si rivelerà utilissima avrete delle buone diritte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti